Il 2017 parte con alcune novità nella raccolta dei rifiuti a Clusone. Con l'anno nuovo i cittadini dovranno iniziare a differenziare anche l'organico. Domani è il primo giorno per esporre i nuovi contenitori marroni. In questi contenitori vanno messi tutti i rifiuti biodegradabili, ossia che si decompongono naturalmente grazie ai microrganismi. Quindi i resti della preparazione e del consumo degli alimenti, frutta, verdura, carne, pesce, latticini, gusci d'uovo e piccoli ossi, fondi di caffè, tè e tisane anche in bustina, piante e fiori recisi, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi. Il servizio di raccolta dell'umido viene effettuato al martedì per tutto l'anno e anche il venerdì nel periodo estivo, da giugno a settembre. Nelle scorse settimane sono stati consegnati i contenitori da utilizzare, quello piccolo aerato per la casa e quello da 25 litri che va messo a bordo strada nei giorni di raccolta. Per i condomini è invece previsto un contenitore più grande da 120 litri. Chi non avesse ancora ritirato i contenitori per la raccolta deve recarsi presso la sede della GECO in Via Lama, nella zona dell'ex Eliporto. Il ritiro si può effettuare nei sabati 7, 14 e 21 gennaio dalle 9 alle 12 e bisogna presentarsi con la comunicazione ricevuta nei mesi scorsi. Spariranno presto anche i sacchi neri che vengono ritirati il sabato mattina. Dal primo aprile i rifiuti indifferenziati andranno messi solo in sacchi grigi semitrasparenti. Resta invece il mercoledì per il ritiro di plastica, carta e cartone. Vetro, pile e medicinali vanno invece portati nei contenitori sparsi in diversi punti della città. Da qualche giorno sono state anche collocate le campane blu per la raccolta di lattine e barattoli.